A differenza di Putin, che non ha avversari, perché quei tre, se sono liberi e vivi, non sono avversari di Putin, perché fino a prova contraria gli avversari quelli veri sono incarcerati e poi fatti morire nelle carceri in Siberia. Quelli sono, diciamo, dei figuranti che danno una mano a Putin a mettere in atto una delle più grandi farse che si è tenuta nelle ultime ore. Quindi, diciamo la verità qual è. La differenza tra Putin e Zelensky è fondamentale. Zelensky è democraticamente eletto in uno Stato indipendente e sovrano che è stato aggredito militarmente da Putin, mentre Putin è un dittatore criminale di guerra che sta conducendo una guerra né per procura né per nessuno, ma per conto della Russia sta minacciando anche gli altri stati circostanti l'Ucraina in maniera, da giorni oramai, in maniera molto pericolosa, che intende allargare il conflitto laddove non ci sia una resa armata dei partigiani ucraini, chiamiamoli con il loro nome, sono dei partigiani ucraini, perché difendono la loro terra e la loro libertà e la loro indipendenza. Allora, voglio farvi fare un passo in avanti.